Sono venuto a Senigallia per appoggiare Marco Antoni e Giovanni Zilli perché si tratta di due candidati validi come sindaco e come consigliere regionale e c'è bisogno di persone di questo genere per creare la svolta. Noi dopo 30 anni siamo riusciti a cambiare le cose a Roma, bisogna che adesso cambino anche nelle macchie. Ma per fare questo ci vogliono liste valide, un'importante candidatura come presidente del consiglio regionale e soprattutto le persone che possono rappresentare il territorio. Ecco perché bisogna essere vicini a Zilli e a Matteo Antoni. Il popolo della libertà manifesterà tutta la propria forza, tutta la propria radicamento popolare ma bisogna che la struttura organizzativa del partito sia adeguata a questa grande forza popolare, a questa grande forza di valori che emerge dal PDN. Non possiamo essere, per usare una vecchia immagine, un nano sulle spalle di un gigante. Il gigante è il popolo della libertà, spesso abbiamo una struttura organizzativa che è un po' leggera, un po' nazionale e che è evidente che noi dobbiamo fare una battaglia anche contro il veleno perché al di là di tutto quello che sta avvenendo ormai da tanti mesi in Italia è un'ondata di veleno che sta inquinando il dibattito pulito, lo sto portando veramente in basso, è un'ondata di veleno fatta di inchieste introbabili, regionali, avere un segnale forte per il centrodestra, per il governo Berlusconi, noi possiamo entrare in una fase finalmente in tre anni senza elezioni tra i piedi e in tre anni in cui il governo fa la grande opera di riforma su cui si è inizialmente avanti da parte di questa nostra maggioranza di governo. Detto questo, grazie a quello che il governo è la Senigallia. Siamo qui a Senigallia perché c'è la necessità di dare un nuovo punto di vista al nostro territorio marchigiano. C'è da rilanciare il tema del turismo, io sono convinto che Marc Antoni sarà la vera sorpresa di questo ballottaggio. Io personalmente mi batterò in regione per portare quell'1% del turismo a essere un 5-6% del bilancio regionale. Ringrazio assolutamente l'onorevole Alemano, sindaco di Roma, che ha voluto portare una testimonianza a mio favore in questa città. Io credo che il lavoro che sta facendo Alemano a Roma, che sta veramente riaprendo Roma e i cittadini, riaprendo Roma e la comunità nazionale e internazionale, credo che sia veramente un grande auspicio anche per la nostra città, che ha veramente bisogno di uscire fuori dalle secche in cui si è venuta fino adesso e che ha bisogno proprio di rilanciarsi su un mercato regionale, nazionale e internazionale per riaffermare questa sua grande storia, questa sua grande vitalità e questa sua grande speranza del futuro. Grazie 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 Grazie